È la prima volta che la vedo così da vicino e con questa attenzione e devo dire che questa strada, questo scorcio è una vera risorsa, lo sarebbe per qualsiasi città italiana. Visto che mi è stato detto che qui solo qualche tempo fa era territorio e preda del traffico cittadino, secondo me è un'iniziativa estremamente positiva che indubbiamente comporta qualche sacrificio ma che evidentemente regala anche tanti vantaggi, non soltanto a chi vuole andare in bicicletta ma attività commerciali che vedono questa iniziativa come una grandissima risorsa. Logicamente la persona con diversabilità deve dotarsi di un mezzo come questo perché se no non può fare altro che contemplare una cosa certamente più bella e più gradevole da vedersi che non le auto paruti contro paruti. Però detto questo è importante.